Sindaco Mena oggi c'è un nuovo sgombero qui in località La Canale, però a differenza di novembre si tratta di una struttura ben organizzata, a quanto pare si faceva anche attività economica qui dentro. Continua l'opera di abbattimento, di abusi, la battaglia per la legalità, continua la volontà e la forza di restituire alla collettività, al popolo, all'uso collettivo delle zone panoramiche belle della nostra città, ma soprattutto tutto ciò che è occupato abusivamente deve essere restituito ai cittadini. È una battaglia che abbiamo analizzato qualche mese fa in città, in provincia, prosegue, oggi Vasto, qualche settimana fa a San Vito, so che hanno nuovamente occupato le stesse persone, ma già sono state denunciate a San Vito proprio per questo. Oggi siamo a Vasto, proseguiamo con questa nostra volontà di restituire ai cittadini tutto ciò che è loro. Qui dentro abbiamo visto che c'erano dei manufatti importanti, cosa comprende quest'area? Comprende un parco che verrà restituito alla città, di località Canale, che si aggiunge agli sgomberi che sono stati fatti a novembre. C'è stata anche la demolizione di una casa completamente abusiva, con vista mare, che è stata in realtà abbattuta qualche giorno fa da chi l'aveva costruita. Naturalmente stiamo agendo sotto le autorizzazioni tutte delle forze dell'ordine, degli organi competenti, anche della magistratura inquirente. È un dato importante per la città e per i cittadini. Mi auguro a breve anche di poter inaugurare questa stagione di legalità con un bel concerto da offrire ai turisti e ai cittadini vastesi. Per chiudere, ha annunciato che quest'area diventerà un parco benedettino. I tempi quali sono? Ci stiamo lavorando perché ci vuole un progetto, ci vogliono i pareri, ci vogliono le risorse. Intanto il dato è certo, sono stati restituiti oltre 30.000 metri quadri di accessi al mare, che erano precedentemente occupati, vedevano cancelli, vedevano reti, vedevano opere abusive. Oggi c'è un litorale completamente libero dove i cittadini possono andare al mare e quest'area, che è la parte sovrastante, l'ingresso di località canale, sarà adoperata per gli usi consentiti dalla legge, ma sicuramente per gli usi civili, collettivi, cittadini. Oggi c'è un litorale.